golden mask gm7 decretato metal detector dell'anno 2023 prezzo qualità funzioni potenza guardati tanti video che sono su internet per vedere di cosa si parla display grafico per riconoscere meglio gli oggetti con wdi asta carbonio telescopica per maneggevolezza e leggerezza multifrequenza 4 14 24 44 monete a 40 centimetri e passa golden mask gm7 finder con bobina piastra 11 per 13 di settima generazione per trovar di più se il gm7 al sito www metalldetector 24.com